Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro Arcade Parla. Hanno trovato un aggiornamento nel database di Black Ops Cold War per PS4, un aggiornamento di circa 8GB per PS4, e un aggiornamento che ci dovrebbe ridurre il peso del gioco su PS5, e spero che sia una cosa che facciano su tutte quante le versioni, perché Cold War inizia a pesare veramente tantissimo, specialmente sulle console next-gen. Perché ci interessa questo aggiornamento? Questo potrebbe essere l'aggiornamento per Mower the Totten, l'aggiornamento di mid-season 4, che ci presenta tutti quanti i contenuti che appunto a noi interessano, la mappa, il perk, perché potrebbe arrivare anche il cannone portatile come oggetto da costruire nel tavolo di supporto anche per zombie, tutta la parte, un pochino più interessante di questa season, il pezzo più grosso. Essendo che questo aggiornamento è stato scoperto nel database, molto probabilmente il lancio è molto molto vicino. Ancora una volta, le date possibili sono o il 15 o il 22, molti pensano il 15 perché è esattamente a metà luglio, esattamente a metà della season, il 15 perché è un giovedì, solitamente tutti quanti questi contenuti escono il giovedì. L'altra cosa appunto il 22 perché altre volte in passato non è precisamente proprio la metà della season la reloaded, per dire nella season 1 la parte reloaded con Firebase Z, è arrivata letteralmente a due terzi della season, quindi nulla è troppo preciso, ma siamo sicuri che appunto arriverà a luglio e nuovamente la data si avvicina sempre e sempre di più. Non ci sono stati dei leak veramente giganteschi in questi giorni per Mower the Totten che invece me li aspettavo, ma se già l'aggiornamento arriva in gioco magari come preload sono sicuro che qualcuno troverà qualcosa di più interessante. Ricordiamo che hanno comunque riccato il nome di questa mappa praticamente al lancio di Cold War, però vedere anche altre cose riccate come fu per Firebase Z potrebbe essere interessante. Avevo visto un video che alcuni ragazzi mi hanno mandato su Discord che saluto, tra cui Heisenberg e Aerobrine, che dovrebbe essere elettricamente il suono del cambio round per Mower the Totten. Non ne sono molto sicuro perché ci fu un leak simile anche per The Machine, ma alla fine era completamente sbagliato questo suono, quindi ve lo lascio come al solito in descrizione se volete ascoltarlo, ma non mi fiderei troppo, almeno al 100%, è pur sempre un leak. Tra l'altro c'è per adesso c'è lato soltanto teaser per la storia, c'è lato il teaser per il Mule Kick, ma molto presto secondo me ci sarà qualche progetto che hanno in parte annunciato per la Wonder Weapon e molto molto presto speriamo anche un trailer vero e proprio. Non so se faranno le cose separate, quindi il classico trailer prima cinematografico e poi di gameplay, per chiaramente mostrare qualcosina in più della mappa, magari un pochino il layout, alcune zone e chiaramente comunque un primo impatto per quello che andremo a vedere appunto in Mower the Totten. Se mancano diciamo una decina di giorni, è chiaro che le tempistiche come al solito stringono, soltanto comunque secondo me bravi quelli di trash per distribuire un pochino i teaser e ci sono chiaramente comunque dei periodi in cui per qualche giorno non esce nulla di veramente gigantesco, anche perché ci sono altre informazioni e non tutto quanto purtroppo gira attorno a zombie. In ogni caso sembra che comunque le news al momento si fermino qui, ripeto ancora una volta che non ci sono stati dei leak o rumor veramente giganteschi per questa mappa, soltanto come al solito ho molta speranza della community che essendo la prossima mappa zombie a round dopo tanto tempo, possa essere di un certo livello e quindi accontentarci davvero tanto. Ripeto che secondo me sei a livello di Farbe Z o anche oltre ne sarei contentissimo, perché a me come mappa è piaciuta veramente tanto. Ciò non toglie che comunque torna un pochino il solito problema della carenza di mappe zombie proprio numericamente parlando, perché una volta che giochi magari tantissimo alla prossima mappa per quanto mi possa nerdare a My Werder Totten per settimane, e ricordiamo anche teoricamente il cambio della vita che faranno tornando circa al sistema precedente, ciò non toglie che giochiamo tantissimo a My Werder Totten ma poi se vogliamo ogni tanto cambiare e tornare indietro, le altre mappe sono sempre le stesse due di Machine e Farbe Z. Vedremo anche se in futuro vorranno continuare a supportare l'epidemia con altri streg o altri contenuti o andranno avanti con altre mappe around. Voglio come solito sapere ragazzi le vostre opinioni, secondo voi in questi 8 GB di aggiornamento oltre My Werder Totten il perk forse canone portatile eserce qualcos'altro di interessante, per quanto riguarda patch notes altri weapon tuning, ancora una volta il cambio di vita teoricamente tornando indietro, comunque compensando il potenziamento di alcune armi, quindi forse non torneremo a 30.000 punti vita precisi come prima, io pensavo piuttosto a qualcosa tipo 45.000-60.000 che sicuramente meno di adesso che è 120.000 il limite massimo di vita degli zombie che è veramente tantissimo, però tutto quanto può come al solito cambiare. Secondo voi si arriverà tutto quanto il 15 o il 22 e appunto anche nelle season dopo cosa andremo a vedere. Vi riuscite con code quiz, spero come sempre che vi sia piaciuto e vi sia stato utile, tutte quante le news di questo video sono come al solito qui sotto in descrizione, se volete ci sono anche i link per i miei social che vi do a seguire, tra cui Instagram, Twitch e anche il canale Discord. Usciamo come sempre a un prossimo video. Un abbraccio. Alla